Blackview W50, il nuovo smartwatch rugged di Blackview che promette davvero molto bene, subito dopo la sigla. Amici ben ritrovati qui sul canale, torniamo a parlare di smartwatch e lo facciamo con il Blackview W50, uno smartwatch rugged che come vi dicevo promette molto molto bene. Prima di partire però una premessa ed obbligo si tratta di uno smartwatch di fascia economica, si trova intorno alla settantina di euro ma spesso e volentieri ve l'ho anche segnalato sul mio canale telegram delle offerte, link qui sotto in descrizione, anche ad una cinquantina di euro e perché no con qualche codice sconto, per questo tenete d'occhio anche la descrizione del video perché lì sicuramente troverete qualcosa. Aggiungo anche altro, si tratta come vi dicevo appunto di un dispositivo economico e questa sarà anche la fascia nella quale mi muoverò, di conseguenza soppesate tutte quante le mie parole, ecco sapendo che ci muoviamo in una fascia economica. È chiaro che non posso fare paragoni con dispositivi di fascia più elevata, quindi quando dirò che qualcosa è buono lo dirò perché c'è qualcos'altro nella stessa fascia di prezzo che insomma non ha le stesse funzioni o viceversa chiaramente. Detto questo prima di commentare tenetene conto. In ogni modo se il video vi sarà piaciuto già adesso vi chiedo un supporto con un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e per non perdervi contenuti come questi. Partiamo come di consueto nel vedere cosa vi arriva a casa una volta completato l'acquisto. E allora classico box cartonato che si spreca anche su questi dispositivi, sicuramente non confezioni premium, anche se devo essere sincero quelle di Blackview sono tutto sommato sempre abbastanza ben curate. Si vede subito il colore dell'orologio, si vede subito l'orologio stesso e qui rispetto ad altri orologi che ho provato sul canale, ad altri smartwatch, la confezione si presenta leggermente più ricca di contenuti. Infatti una volta aperta oltre al classico manualetto, cavetto standard di ricarica, ecco che troviamo un cinturino in più in dotazione. Infatti è uno smartwatch in plastica praticamente con un cinturino in lattice ma accompagnato, vi dicevo, da un altro cinturino questa volta in stoffa che se non fosse proprio per gli agganci differenti si presenta molto simile a quelli che si trovano anche sugli Apple Watch. Quindi un piccolo punto a favore di Blackview rispetto ad altri smartwatch. Andiamo adesso a vedere più da vicino il dispositivo. Vi accennavo che lui è interamente costruito in plastica se non fosse per il vetro del display. Ha una misura di 47.5 millimetri mentre l'altezza della cassa è di 14,5 millimetri quindi non proprio piccola. Tutto sommato però lo smartwatch è davvero molto leggero, si porta facilmente al polso e non crea disagio dopo diverso tempo. Vi dicevo display in vetro da 1.39 pollici ed ha una risoluzione di 360x360. Ecco una buona risoluzione si andava a vedere per uno smartwatch di questa fascia. Batteria ottima sorpresa perché è una 370 mAh tuttavia offre una durata in utilizzo standard di ben 5 giorni. Mentre se lo tenete in stand by solo con il polso che si alza e magari lo attiva e impostando la durata di attivazione al minimo può durare anche ben 30 giorni. È dotato anche di modulo bluetooth in versione 5.3 quindi una delle versioni più avanzate per il bluetooth. Questo capite bene vi permette di associarlo a smartphone e di operare senza lag proprio sul dispositivo. Veniamo adesso a quelle che sono le funzionalità di questo smartwatch. Funzionalità attivabili chiaramente attraverso lo schermo touch. Devo essere onesto non sempre risponde in maniera fulminia però però ci sta. Funzionalità che sono anche attivabili attraverso due pulsantini laterali quello di accensione di spegnimento ma che serve anche a tornare sulla home e poi il tastino sport che avvia direttamente tutte quante le modalità di allenamento e credetemi ce ne sono davvero tantissime tutte gestibili dallo smartphone ma tutte gestibili anche dall'app che poi vedremo in maniera più approfondita successivamente. Nella parte posteriore del dispositivo ecco c'è anche il misuratore infrarossi vale a dire che andrà a misurare il battito cardiaco addirittura potremo andare a misurare anche l'ossigeno nel sangue e tanto altro. Ecco questo sensore potremo definirlo davvero abbastanza preciso sempre muovendoci nella fascia di prezzo economica ma sicuramente meno rispetto a smartwatch più blasonati come apple watch come i tick watch ad esempio quando vado a misurare le pulsazioni ho fatto un test è chiaro che non è possibile farli in maniera contemporanea perché la posizione sul braccio cambia e quant'altro comunque si nota che un po di differenza c'è e offre delle misurazioni in meno non in più rispetto all'apple watch stessa cosa vale anche per i passi due tre passi in meno vengono misurati rispetto sempre all'apple watch tick watch che sono comunque molto molto più precisi in tal senso però sapendo questo tutto sommato ecco riuscirete sempre ad avere una misurazione abbastanza precisa. Torniamo un attimo alle modalità di controllo del dispositivo quadranti che sono intercambiabili scaricabili sull'applicazione potrete effettuare uno swipe dall'alto verso il basso per attivare le notifiche mentre dal basso verso l'alto potrete andare ad attivare il centro di controllo centro di controllo che vi permette di andare a silenziare i suoni sul dispositivo andare ad attivare e disattivare la connessione bluetooth attivare la modalità non disturbare gestire la luminosità del display ma anche andare ad attivare quella che è la modalità di risparmio energetico così come entrare all'interno delle impostazioni impostazioni che vi permettono di andare a gestire un po il tutto ad esempio cosa interessante anche il fatto di poter effettuare e ricevere una chiamata dotato di altoparlanti quindi potrete parlare all'interno dello smartwatch rispondere ad una chiamata possiamo andare anche a gestire altre cose come il rilevamento automatico del movimento ma potrete anche andare a gestire le classiche impostazioni che si trovano un po su tutti quanti gli smartwatch tornando un po alla home del dispositivo effettuando uno swipe da destra verso sinistra o viceversa ecco che entrerete all'interno di quelle che sono le complicazioni standard del dispositivo potrete andare ad effettuare una misurazione della frequenza cardiaca potrete andare a visualizzare il meteo dovrete essere sempre connessi allo smartwatch per andare a visualizzare scaricare i dati da internet potrete come vi accennavo andare a misurare l'ossigeno nel sangue andare anche ad effettuare visualizzare di conseguenza tutte quante quelle che sono le misurazioni del sonno ma cosa interessante anche la misurazione della pressione ecco cosa che altri smartwatch penso agli ultimi testati non hanno chiaramente potrete andare anche ad effettuare altre misurazioni come il conteggio dei passi oppure quella delle calorie bruciate vi accennavo ad una modalità sport che si attiva attraverso il pussante in basso e che ci dà diverse possibilità per esempio come quelle di andare a effettuare misurazioni in caso di attività di ciclismo di sport indoor addirittura sport sulla neve giochi con la palla danza sportiva ecco non le nomino tutte quante ma credetemi ce ne sono davvero moltissime punto di forza come già vi ho accennato in precedenza è sicuramente la sua applicazione infoware applicazione che si trova sia sul play store quindi per dispositivi android sia su app store di conseguenza su dispositivi ios e questo ecco è una vera e propria novità che non troviamo su altri smartwatch infatti spesso e volentieri i dispositivi di questa fascia di prezzo sono gestibili solo e soltanto su android mentre qui avremo la possibilità di gestirlo completamente di effettuare anche le chiamate su ios cosa davvero non da poco ecco la sua applicazione si presenta con una schermata principale che è riassuntiva di tutte le misurazioni che lo smartwatch è andato ad effettuare nel corso del tempo quindi i passi le attività in genere le chilocalorie bruciate ma anche il sonno la frequenza cardiaca insomma tutto quello che abbiamo visto già scorrendo il display abbiamo una sezione dedicata al dispositivo e alla sua configurazione nella quale troverete lo stato reale della batteria troverete anche altre informazioni ma la cosa alla quale un po' tutti ci tengono è sicuramente quella dell'impostazione dei quadranti ne sono davvero tantissimi abbiamo dei quadranti già preimpostati e visibili ci basta cambiarli o dall'applicazione oppure tenendo premuto in maniera più forte sul display dello smartwatch e poi scorrere tra di essi mentre perlomeno da quello che ho avuto modo di testare non è possibile come i dispositivi che montano Wear OS di Google ecco andare a scaricare altri quadranti presi da altre applicazioni questo è un limite ma come dicevo si tratta sempre di un dispositivo economico e comunque sia al suo interno ne ha davvero decine disponibili tornando un attimo indietro vediamo che sono disponibili anche altre funzioni come ad esempio quella di agitare lo smartwatch per scattare una fotografia davvero molto comodo così da poter avere sostanzialmente un comando a distanza che permette ecco di scattare foto in tutta tranquillità inoltre abbiamo anche la possibilità di effettuare una ricerca dello smartphone vale a dire che cliccando su un tastino ecco che il nostro smartphone inizierà a suonare e potremo capire dove lo abbiamo lasciato sicuramente è una funzione un po' limitata non come quella di dov'è di apple watch ad esempio perché in questo caso dovremmo trovarci comunque sempre nel raggio di azione del bluetooth per il resto abbiamo la possibilità di gestire anche la lingua dell'app ma anche del dispositivo che chiaramente trovate in italiano e insomma senza soffermarci troppo un po' tutte quelle funzioni che trovate con un evento sugli altri dispositivi e per concludere per riassumere parliamo un po' di quelli che sono gli aspetti positivi e quelli negativi di questo smartwatch partiamo proprio da ciò che mi ha convinto di più la sua fascia di prezzo seppur economica rende questo smartwatch davvero fruibile infatti troviamo un po' di tutto è possibile misurare un po' di tutto la frequenza cardiaca addirittura la pressione l'ossigeno il meteo le attività generali certamente lo fanno un po' tutti gli smartwatch ma il fatto che ci sia anche la misurazione della pressione ecco lo rende un plus sicuramente i menu sono molto semplici non molto ricchi a mio avviso ma comunque sia permettono la gestione delle funzioni principali in maniera davvero intuitiva semplice non dovremo stare lì a sbattere la testa ottima anche l'applicazione che ha diverse funzionalità e permette anche di andare a scaricare tantissime watch faces proprio sul nostro smartwatch sostanzialmente lo rendono anche molto molto piacevole sfizioso da utilizzare sicuramente un dispositivo non adatto a grandi cose ma per quelle piccole attività del quotidiano molto utile gli aspetti negativi sono i materiali insomma è un dispositivo realizzato completamente in plastica e si sente anche che il suo cinturino non è proprio di grande fattura anche se è positivo il fatto di trovarne uno di stoffa che lo rendono ecco adatto non solo ad attività fisica ma magari anche per portarlo in giro quotidianamente ovviamente con le già debite premesse effettuate non posso dire che mi ha convinto la misurazione del battito cardiaco e di altro come per esempio dei passi c'è sempre una disparità di misurazione rispetto ad altri smartwatch ci sta lo abbiamo detto però è anche vero che dovrete sempre farvi un po' quel calcolo mentale diciamo che la tecnologia si è evoluta tantissimo e quindi questo si poteva un po' ovviare un'altra cosa che non mi è piaciuta sempre riferita alle misurazioni e che quando mi trovo sul display anche se è previsto uno storico delle misurazioni non sempre è visibile al primo colpo sostanzialmente una volta entrati nella modalità dovremo rieffettuare la misurazione per poi vedere tutto il resto chiaramente questo problema non c'è all'interno dell'applicazione su smartphone ma è anche vero che vogliamo qualcosa di più immediato quindi devo essere onesto non fidatevi troppo di ciò che mostra lo smartwatch sul suo display ma magari andate sempre a controllare all'interno dell'applicazione detto questo amici torno a dire se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale mi raccomando seguitemi anche su instagram i link li trovate sempre qui sotto in descrizione al video soprattutto perché lì vi do diverse informazioni anche sul backstage di come vanno le recensioni di prodotti che sono in arrivo sul canale o come quelli che purtroppo poste italiane mi ha smarrito e c'erano davvero dei prodotti interessanti che vi avrei portato volentieri proprio qui comunque sia ci vediamo in un prossimo sempre qui sul mio canale youtube ciao 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 ciao